Sono passati 50 anni da quando alcune famiglie con ragazzi disabili del Bassanese si sono associate per condividere idee, speranze ed esperienze. Nacque così l'Anfas di Bassano che ha portato in seguito all'apertura della prima casa famiglia cittadina del centro di urno di 9 e dell'inaugurazione a settembre del centro bassanese di Casa Rubbi. Da qui alla prossima casa alloggio il passo sarà molto breve, nel frattempo l'Anfas di Bassano celebra il mezzo secolo di vita e amore con un incontro aperto al pubblico che si darà domani alle 10 proprio a Casa Rubbi. Si parlerà del concetto di dopo di noi ovvero il proseguimento del percorso di cura e crescita di una persona disabile anche dopo la scomparsa dei genitori e delle persone più vicine.